Numero 40, Elisa Adelina Urzica, Michela Schettino in Queen Fight. Base. È condannata a morte, per ordine della nostra sovrana Elisabetta, regina d'Inghilterra. Come siamo arrivati a questo? Are you ready to play? Vogliamo ricordare che on demand è già possibile andare a vedere le giornate del 9, 10, 11 riguardo il padiglione rosso e le giornate del 10, 11 del padiglione bianco. Quindi se vi siete persi qualcosa non vi preoccupate perché sono già online, on demand. Le giornate, ripeto, 9, 10, 11 del padiglione rosso, 10, 11 del padiglione bianco. Quindi buona visione. Buona visione. Come siamo arrivati a questo? Grazie con il numero 4, Sofia Barba.